Buongiorno a tutti, sono Gaia, Style & Merchandising Manager di Dalani.it. Faccio parte del team Stile che assieme a me si è occupato di selezionare gli arredi e gli accessori più adatti ad arredare la casa di Laura. Quando diversi mesi fa ci ha contattati per informarci del suo progetto di Old Now Cerca Casa e chiederci di partecipare come consulenti di Stile e Partner abbiamo accettato con entusiasmo. Make Every Home e Beautiful Home è la mission di Dalani e questo progetto ha rappresentato da subito un'occasione concreta per metterci al lavoro. Partendo dallo stile e dalle richieste di Laura, combinati con il progetto dell'appartamento di una famiglia dinamica composta da una mamma blogger, un papà chef e due piccole gemelle, abbiamo elaborato un piano d'azione. Innanzitutto abbiamo individuato dei mood board, delle immagini rappresentative di ambientazioni che rispecchiassero nel modo più fedele possibile i gusti di Laura, così da capire su quali stili di arredamento lavorare. Una volta stabiliti lo stile, i colori e le esigenze da soddisfare, abbiamo iniziato a selezionare accessori e arredi. Le proposte quotidiane, sempre diverse di dalani.it, ci hanno permesso di scegliere fra un'enorme quantità di prodotti diversi, individuando quelli più giusti per ogni ambiente. Per la camera di Gaia e Giada abbiamo individuato dei letti made in Italy, solidi e funzionali, e degli elementi divertenti e colorati che fossero a misura di bambina. Anche nella camera da letto dei genitori abbiamo optato per la qualità di un letto made in Italy e per accessori e lampade dall'estetica intramontabile. Nella zona living ha prevalso il mix and match, con tavoli di stili diversi, luci di design e sedute di vari colori a giocare fra loro. Per lo studio, un ambiente funzionale e di uso quotidiano, abbiamo scelto un tavolo spazioso in legno di acacia con gambe verniciate a polvere e due comode sedute di design. Grazie!